Noi non accetteremo l'imposizione di una tecnologia di cui ancora non si conoscono le conseguenze su salute e ambiente, né tantomeno ci presteremo a fare le cavie. Per fortuna si stanno formando comitati stop al 5G in tutta Italia. È uno dei tanti messaggi allarmistici lasciati sulla pagina Facebook dell'Università dell'Aquila a commento del servizio di Rete8 sulla fibra ottica superveloce, la cui sperimentazione partirà proprio da oggi all'Aquila, prima e unica città al mondo, a ospitare una nuova generazione di fibra creata nel laboratorio della multinazionale giapponese Sumitomo. Il colosso nipponico ha scelto l'Aquila per attuare e sperimentare un prodotto realizzato sinora soltanto in laboratorio, grazie alla combinazione di due elementi fondamentali, la presenza del tunnel ispezionabile e dei sottoservizi e un gruppo di ricerca esperto di fibra ottica all'Università dell'Aquila. I 5 chilometri di percorso in centro storico in cui la fibra multicore giapponese verrà sperimentata sono stati inaugurati questa mattina alla presenza dell'ambasciatore giapponese. Una sperimentazione che però nulla a che vedere con il 5G, contro cui diversi utenti si scagliano sui social, come Antonella, di cui abbiamo letto il messaggio, o Giulio, che esorta a unirsi tutti contro il 5G. È il docente di telecomunicazioni Fabio Graziosi a spiegare la differenza. La fibra è un conduttore che utilizzando la luce permette di trasferire all'altissima velocità dei dati e si basa proprio sul principio del confinamento del segnale luminoso all'interno di un conduttore molto piccolo che trasporta quindi questi impulsi luminosi ai quali sono collegate le informazioni. Quindi è un sistema moderno e ampiamente utilizzato alla base della moderna società dell'informazione e della comunicazione. Insomma diamo una risposta alle persone allarmate che pensano che ora sotto l'Ateneo c'è la sperimentazione del 5G, che è un'altra cosa? Le fibre ottiche non hanno assolutamente nulla a che vedere con il 5G. Sono, ripeto, un conduttore che utilizza la luce per trasferimento di alta velocità. Il nostro paese, come tanti altri paesi, finalmente sta facendo uno sviluppo di rete ottica nazionale che ci consentirà di avere connettività allineata a quella di altri paesi che hanno già fatto questa scelta. Quindi le fibre ottiche sono la soluzione al problema del digital divide. L'Italia ha finalmente imboccato questa strada. Grazie.